ciao a tutti in questo video ti andrò a parlare di tutte le contromisure naturali e quindi non farmacologiche che deve attuare per poterti prendere cura delle tue ossa andrò in particolare a indicarti 7 punti fondamentali da cui non puoi prescindere per la salute del tuo scheletro questo video è diretto a tutti sia i giovani sia diversamente giovani sia che tu abbia delle ossa in estrema salute sia invece che tu abbia già un quadro di osteoporosi oppure che addirittura tu stia già prendendo una terapia mirata per capire al meglio i messaggi che ti darò se non l'hai già fatto vatti a vedere la parte 1 che ti linko qua sotto in descrizione troverai le basi che ti permetteranno di avere una chiave di lettura precisa per capire tutte le sane abitudini che devi adottare per la salute delle tue ossa e per contrastare l'invecchiamento del nostro scheletro e quindi cosa dobbiamo fare rullo di tamburi anzi no sigla se sei un affezionato al nostro canale sai che il nostro alto scopo è quello di trasmetterti cultura sulla prevenzione primaria ovvero su tutte le sane abitudini di vita che rappresentano la medicina migliore quella senza effetti collaterali la più naturale che ci sia oggi ti riassumerò i sette punti fondamentali per prenderti cura delle tue ossa primo punto non puoi prescindere da una sana alimentazione partiamo innanzitutto dai micronutrienti ovvero dai sali minerali e dalle vitamine presenti nella tua dieta quotidiana per quanto riguarda i sali minerali sono importantissimi il calcio il fosforo il fluoro e il magnesio perché sono i diretti costituenti dei cristalli di idrossiapatite quei cristalli che danno forza resistenza e rigidità non solo alle tue ossa ma anche ai tessuti duri dei tuoi denti vi sono poi anche altri sali minerali come lo zinco il manganese il boro il ferro il vanadio il selenio e così via per quanto riguarda le vitamine sono importantissime la vitamina c la vitamina k e come ben saprai la vitamina d queste vitamine in parte riesce a introdurre attraverso l'alimentazione e in parte il tuo corpo riesce a produrre da solo affinché il tuo organismo riesca in parte a produrre e in parte assumere queste vitamine è però fondamentale la salute del tuo intestino e quindi deve avere un microbiota intestinale in salute se così non fosse avrà un quadro di disbiosi che deve essere subito indagato e risolto se hai problemi di intestino vatti a vedere video che ti linko qua sotto in descrizione per poterti chiarire un po l'argomento nella tua alimentazione devi introdurre alimenti che presentano fitoestrogeni questo parolone sta a indicare dei composti che chimicamente assomigliano agli estrogeni cioè agli ormoni femminili fra i fitoestrogeni ti ricordo in particolare gli isoflavoni che si ritrovano nella soia la soia non fa parte della nostra cultura gastronomica ma dobbiamo dire che già da alcuni anni a questa parte riusciamo a ritrovarle negli scaffali del supermercato per pura curiosità ti cito qualche fonte che possono essere i germogli di soia il latte di soia e in alcuni casi per condimento la salsa di soia è ovvio che su internet o addirittura su youtube troverai in maniera molto semplice molte ricette e per quanto riguarda il latte che per tanti anni sembrava essere la panacea per le nostre ossa come ho già detto nel video parte 1 il latte purtroppo può provocare a causa di un alto contenuto di proteine un acidosi tessutale e quindi che succede che il tuo organismo per contrastare questo ph acido deve andare a mobilizzare quindi a riassorbire osso per poter trattenere sali minerali come il calcio il magnesio eccetera e quindi se da una parte il latte è indispensabile nei primi anni di vita nella seconda e nella terza età purtroppo può diventare controproducente per la salute delle tue ossa altro consiglio spassionato attenzione a quelle bevande gassate a base di cola purtroppo contengono molti acidi in particolare l'acido ortofosforico che porta ad acidosi tessutale e quindi per essere contrastata il nostro organismo andrà a riassorbire sali minerali dalle ossa dello scheletro e inoltre da dentista ti dico che l'acido ortofosforico purtroppo scioglie e danneggia lo smalto dei tuoi denti quindi concludendo questo primo punto quali sono gli alimenti più salutari per le tue ossa sarà magari un disco rotto ma io partirei da verdura e frutta di stagione magari a chilometro zero che ovviamente contiene vitamine sali minerali e tutti i composti salutari di cui abbiamo parlato se non sei vegano un altro consiglio magari è quello di assumere ogni tanto un po' di sano brodo di ossa magari nelle stagioni fredde ci fa ancora più voglia punto numero due il movimento devi sapere che la sedentarietà deve essere combattuta in tutte le maniere perché questa promuove attraverso vari meccanismi il riassorbimento delle tue ossa per più pigri ricordo che basta partire con pochi minuti al giorno di attività per poi lentamente ma progressivamente aumentare qualche consiglio magari evita l'ascensore e cerca di fare le scale oppure parcheggia la tua auto un po più distante dal tuo posto di lavoro o da casa tua basta introdurre anche poco movimento al giorno per apportare notevoli benefici alla salute di tutto il tuo corpo e quindi anche delle tue ossa ti ricordo che sono importanti allo stesso modo le attività di forza dove abbiamo quindi un carico un sollevamento di pesi le attività di stretching dove abbiamo un allungamento muscolare quindi un miglioramento della flessibilità e infine le attività invece aerobiche dove quindi abbiamo una bassa intensità per una durata prolungata in particolare oggi mi voglio soffermare proprio su quest'ultimo tipo di attività fisica l'attività aerobica permette il rilascio da parte del nostro organismo di endorfine cioè gli ormoni del benessere ma anche di un altro ormone che è meno conosciuto e di cui oggi ti voglio parlare l'irisina l'irisina è un ormone che viene prodotto dai muscoli scheletrici proprio durante l'attività fisica aerobica questa ha prevalentemente due funzioni da una parte è paragonabile alle endorfine cioè l'irisina ti dà il buon umore dall'altra l'irisina stimola direttamente a livello osseo gli osteoblasti e quindi promuove accrescimento mineralizzazione e deposizione ossea quindi per sintetizzare al massimo ricordati il movimento rinforza le tue ossa punto numero 3 l'esposizione al sole è importantissima perché i raggi ultravioletti in particolare gli uvb consentono alla nostra pelle di produrre tutta la vitamina d che ci serve per assorbire al livello dell'intestino il calcio e il fosforo di cui le nostre ossa necessitano in primavera in estate l'esposizione anche in volontaria al sole è più che sufficiente per permettere alla pelle del nostro corpo di produrre abbastanza vitamina d il problema invece sussiste nelle stagioni fredde il consiglio valido a tutte le età è quello di esporre viso e braccia al di sotto del gomito al sole almeno per 30 minuti al giorno quindi che ne dici di una bella passeggiata all'aperto coprendoti bene addosso ma magari tirandoti un po sulle maniche aumenterai così la superficie del tuo corpo esposto al sole produrrai quindi più vitamina d in particolare riuscirai a voler bene alle tue ossa punto numero 4 no alcol l'alcol fa male sempre se bevi poco ti farà poco male se bevi tanto ti farà tanto male ma comunque di male si tratta l'alcol comporta un danno alle cellule ossee si parla di danno tossico diretto influenzano negativamente l'equilibrio degli ormoni che regolano il metabolismo osseo e infine ad alte concentrazioni inibisce l'assorbimento del calcio a livello intestinale ti ricordo anche che se sei un abitué delle sbronze e ti piace alzare il gomito barcolla qui barcolla qua aumenterà il rischio di cadute e quindi di fratture ossee punto numero 5 il fumo basta con le sigarette il fumo ha un effetto negativo sugli ormoni che regolano la mineralizzazione e in generale la salute delle tue ossa la nicotina in particolare infiscia la regolazione degli ormoni sessuali e nella donna provoca addirittura la menopausa anticipata menopausa purtroppo fa rima con osteopenia e con osteoporosi punto numero 6 metalli pesanti metalli come il mercurio il piombo il cadmio e l'arsenico possono inibire l'assorbimento da parte del nostro intestino del calcio e del fosforo che sono tanto importanti per la salute e la mineralizzazione delle nostre ossa quindi questi metalli pesanti possono aggravare direttamente l'osteoporosi attenti quindi alle fonti dove reperire frutta e verdura privilegiando ovviamente frutta di stagione a chilometro zero e magari se hai la fortuna di conoscere un agricoltore o un fattore ancora meglio perché saprai cosa mangi e mi raccomando non esagerare con il tonno e scatola il tonno è un grande predatore in cima alla piramide ecologica e quindi si capisce bene se il tonno ha mangiato pesce che sua volta ha mangiato altro pesce è più probabile che le sue carni siano ricche di mercurio punto numero 7 riduci lo stress siccome lo stress determina un aumento del cortisolo gli effetti saranno una ridotta produzione del collagene che è una costituente fondamentale dell'architettura delle ossa una riduzione dell'assorbimento del calcio a livello dell'intestino calcio minerale importantissimo a livello osseo e infine si avrà una attivazione anche eccessiva degli osteoclasti cioè di quelle cellule che provocano il riassorbimento e la demineralizzazione dell'osso avremo la conseguente escrezione di calcio a livello renale calcio ahimè che andrà via con la pipì dei metodi per ridurre lo stress ne abbiamo già parlato in un video che ti linko qua sotto in descrizione vai a vedertelo perché ti dà alcuni spunti interessanti se ti è piaciuto questo video metti un bel like iscriviti al canale se ti piacciono questi contenuti ci darei una grande mano per il nostro lavoro di divulgazione scientifica in parole semplici ciao alla prossima